ottica barsca 9x50 ottica in metallo nero antiriflesso tappi di protezione smontabili gialla alta visibilità e lente davanti bianca l'ottica si regola svitando queste due ghiere con una monetina qui possiamo regolare l'alzo e da quest'altra parte possiamo regolare il brandeggio destra sinistra qui abbiamo una ghiera che serve per aumentare gli ingrandimenti 9 8 7 6 5 4 3 da 3 a 9 ingrandimenti per 50 di apertura anteriore 50 è riferito alla 5 cm di apertura dell'ottica anteriore trattamento antiriflesso non è non è dotata di anelli e montaggio molto semplice un ottima ottica con marca molto buona ideale anche per carabinare a complessa e per armi vere non che per soft tire reticolo inciso all'interno trovate una pezzuola per la pulizia dei sali essiccanti per il mantenimento e delle istruzioni delle semplici istruzioni per commento in quel momento all'interno 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 Grazie.